La fantascienza è sempre stata il genere di narrativa che più mi ha affascinato. Libri, fumetti, film, videogiochi, tutte scuse per teletrasportarsi in un mondo futuristico dominato da schermi, ologrammi, astronavi e laser. Ma quella fantascienza che mi faceva sognare da ragazzino assomiglia sempre di più alla realtà che viviamo ogni giorno. Computer che ci stanno in mano, collegamenti iperveloci, macchine ed elettrodomestici intelligenti, telecamere, droni, satelliti, un flusso di informazioni costante in tempo reale da tutto il mondo, razzi sparati nello spazio. Il futuro è già oggi ed ecco allora che la nuova frontiera dell'innovazione sembra spostarsi da fuori a dentro di noi. C'è chi pensa che il futuro della specie umana sia di fatto una progressiva integrazione fra noi e le macchine, una modifica del concetto stesso di uomo, di essere umano, come l'abbiamo conosciuto finora. In prima fila ovviamente siede Elon Musk, il genio miliardario playboy filantropo. Elon Musk domina la scena tecnologica e con Neuralink, la sua startup di ingegneria neurale, vuole letteralmente entrare nelle nostre teste. Per fare cosa? E che cosa ha presentato qualche settimana fa di tanto rivoluzionario? Ne parliamo in questo video. Sia chiaro, non perderò tempo a riassumervi chi sia Elon Musk, questo un po' folle Leonardo da Vinci dei nostri tempi. È una cosa ridicola, io non dipingo. Ho anche fatto un altro video su di lui e sui suoi segreti di apprendimento, se vi interessa andate a recuperarlo. Per cui passiamo direttamente a Neuralink e ai suoi obiettivi. Neuralink viene fondata da Musk insieme a Max Hodak, l'attuale presidente, nel luglio del 2016, poco più di quattro anni fa. Ad oggi ha ricevuto quasi 200 milioni di dollari in finanziamenti, più della metà dei quali da parte di Musk stesso e conta un centinaio di dipendenti. Fin dal principio l'obiettivo che si è prefissata è stato uno e uno soltanto, creare un'interfaccia diretta a banda larga tra il cervello umano e il computer. E la parola chiave qui è proprio banda larga, perché da un certo punto di vista, che ci piaccia o no, noi siamo già interconnessi con i nostri computer, ne siamo così dipendenti sia come società che come individui, da essere quasi considerabili una cosa sola. Siamo già, in qualche modo, dei cyborg. Potreste davvero lavorare, comunicare, viaggiare, studiare, giocare, vivere senza dipendere da almeno un computer? Pensateci bene, non solo, ma sono già decenni che i computer diventano sempre più piccoli, sempre più vicini, sempre più personali. È stato proprio il PC, il personal computer, a iniziare questa rivoluzione e oggi abbiamo nelle nostre tasche, nelle nostre mani, sui nostri polsi, computer veri e propri in cui custodiamo parti della nostra vita privata intime e indispensabili. La tecnologia digitale si è avvicinata all'uomo fino ad arrivare alla sua pelle. La nostra interfaccia, però, dagli anni 70 ad oggi, è sempre uno schermo di qualche tipo ed è limitata da un lato dalla velocità dei dispositivi che utilizziamo, ma dall'altra dalla capacità dei nostri sensi, la vista in primis, ma anche gli altri, di processare le informazioni. Ecco, l'idea di Musk è proprio di superare questi limiti, aggirare il filtro dei sensi e degli schermi e far comunicare direttamente il cervello con il computer, raggiungendo una velocità di scambio di dati impressionante. Neuralink, realizzando questo collegamento, ha due obiettivi, due fasi, se volete. La prima fase è medica e non è un caso, infatti, che la società, con sede a San Francisco, si definisca proprio una start-up di ingegneria medica e punti tutto su questa definizione e su questo obiettivo. Il collegamento neurale col computer permetterà, secondo i neuroscienziati di Neuralink, di curare in futuro condizioni neurologiche gravi, come l'Alzheimer o il Parkinson, di restituire la vista a chi l'ha persa, di curare la paralisi, la sordità, i disturbi di memoria, prevenire e curare gli ictus. E questa è una prospettiva su cui tutti, davvero tutti, credo, non possono che essere entusiasti. Ma allora perché Neuralink fa così discutere, fa così paura ad alcuni, è così al centro le teorie del complotto, polemiche e incubi per la fase 2? Sì, perché curare le patologie neurologiche è solo il primo passo. Il collegamento diretto con il computer potrebbe permettere col tempo di comunicare a distanza, simulando una sorta di telepatia informatica, di espandere la propria memoria, la propria capacità di apprendimento, di incrementare l'intelligenza, di, alla fine di tutto, sfumare i confini fra la macchina e l'essere umano, se non eliminarli del tutto. Neuralink è il tentativo di Elon Musk di superare i limiti della biologia, in pieno paradigma transumanista, e di arrivare a una vera e propria simbiosi tra intelligenza biologica e intelligenza artificiale. E questo sì che almeno ad alcuni fa davvero paura, ma sull'aspetto etico e futuristico mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate voi, magari scrivetemelo qui sotto e realizzerò un video in cui parlo proprio di transumanesimo e dei miei pensieri a riguardo confrontati coi vostri. Dovrebbe essere interessante. Torniamo un secondo con i piedi per terra però, oltre alle belle parole, che cosa ha davvero realizzato Neuralink finora? Partiamo col dire che al momento non si può comprare nulla da Neuralink, è tutto ancora in fase di sperimentazione e lontano dall'essere pronto per il mercato o all'applicazione diretta sugli esseri umani. Volendo banalizzare, Neuralink sta progettando e testando una tecnologia per praticare un foro nel cranio di qualche centimetro di diametro, pressa poco per capirci come una moneta da 2 euro o poco più, attraverso il quale collegare migliaia di elettrodi, cavi sottilissimi e flessibili, con un diametro di pochi nanometri, a gruppi di neuroni o persino a singoli neuroni. Per il momento la tecnologia disponibile non riesce ancora ad arrivare al singolo neurone, ma si progredisce rapidamente. Ecco, questi elettrodi sarebbero poi collegati a un piccolo dispositivo a forma di disco posto fuori dalla scatola cranica a mo' di tappo del foro, in grado di connettersi wireless senza fili a un computer con uno scambio di dati a banda larga. Il tutto sarebbe applicato da una specie di braccio robotico iperpreciso, programmato per evitare qualunque vaso sanguigno e garantire la sicurezza totale dell'operazione. Niente chirurghi, niente errore umano, niente dolore, niente effetti collaterali. Si spera. Una vera e propria porta digitale per la mente, capace di permettere la registrazione dell'attività e la stimolazione dei neuroni. È così che, ad esempio, si potrebbe superare la paralisi, che di fatto è un mancato collegamento tra le strutture cerebrali che regolano il movimento e una parte specifica del corpo. Lavorare a livello dei singoli neuroni avrebbe potenzialità infinite. Questa è l'idea. Ma a che punto siamo? Qualche settimana fa Elon Musk ha sollevato un polverone incredibile annunciando una dimostrazione a sorpresa della tecnologia Neuralink. Che cosa ha mostrato? Ha mostrato un... Maiale. Sì, un maiale. Il primo animale a cui è stato impiantato il dispositivo Neuralink. E così il mondo è venuto a conoscenza del fatto che, ovviamente, come qualunque azienda in campo medico, anche Neuralink sperimenta sugli animali e quindi è arrivata una bella tonnellata di controversia animalista, che in effetti di controversia non ce n'era già abbastanza. Io me lo vedo, Elon, seduto alla sua scrivania che progetta nuovi modi di scatenare controversie, cioè pare proprio che lo faccia apposta. Lasciando perdere la questione sulla sperimentazione animale, se no finisco nei guai pure io, quello che Musk ha dimostrato è stata la capacità del dispositivo impiantato nel cranio del suino di registrarne l'attività cerebrale, addirittura facendo ascoltare in diretta i suoni provocati dagli impulsi elettrici del cervello. Non bastasse, in agosto Neuralink ha ricevuto l'approvazione dell'FDA americana, la Food and Drug Administration, come dispositivo all'avanguardia per essere testato su un numero ristretto di pazienti umani. Su questo però non abbiamo ancora notizie e l'azienda continua a portare avanti le sue ricerche con un alone di mistero e un'opacità che a tanti proprio non convince. E arriviamo quindi alle critiche, alle controversie vere, la prima delle quali è proprio la questione dell'opacità e della segretezza. C'è chi dice che Neuralink non sia altro che un giocattolino di Elon Musk per fare marketing e che oltre al fumo ci sia ben poco arrosto, che siamo in realtà lontani decenni dal realizzare davvero un prodotto di questo tipo e che l'intero gruppo dirigente dell'azienda non abbia la minima idea di come davvero produrre qualcosa di rivoluzionario. C'è da dire però che lo dicono sempre di tutte le iniziative di Musk. Lo ricevano di SpaceX prima che riuscisse davvero a creare dei razzi riutilizzabili e firmasse degli accordi con la NASA. Lo ricevano di Tesla prima che le auto elettriche invadessero le strade di mezzo mondo. Questo non per screditare del tutto questa critica, che Musk sia abituato alle sparate grandiose e che venda la pelle dell'orso prima di averlo catturato è un fatto noto, indiscutibile. Il problema è che poi spesso l'orso lo cattura davvero. E finora ha funzionato piuttosto bene. Staremo a vedere. La seconda critica è in realtà molto semplice ed è quella che dice che anche se Neuralink dovesse davvero riuscire a realizzare quello che promette, nessuno si farebbe mai impiantare un dispositivo del genere nel cranio. Io personalmente, ma questa è un'idea mia, non sono per niente d'accordo con questo. Perché oltre agli entusiasti transumanisti, credo proprio che i disabili e gli affetti da malattie neurologiche, magari degenerative, gradirebbero una chance di tornare alla salute. E una volta che la tecnologia si fosse dimostrata sicura per loro, beh, per quanto mi riguarda, è solo questione di tempo prima che il grande pubblico si abitui. La terza critica è quella di cui abbiamo già discusso prima, quella etica, quella ideologica, quella proprio contraria al concetto stesso di fusione tra uomo e macchina. Ancora una volta, fatemi sapere che cosa ne pensate, che ne riparliamo insieme in un altro video. E poi c'è la quarta e ultima critica, che è in realtà un insieme di critiche e sono quelle tecniche che vengono da altri esperti del settore che non condividono in parte o del tutto l'approccio dell'inserzione degli elettrodi, eccetera eccetera. Ora, io ho provato, dico davvero, a trovare il modo di semplificare quelle critiche, ma vanno davvero troppo oltre alla portata di quello che posso comprendere e divulgare. Ci vorrebbe una comprensione della medicina, della chirurgia, della neurologia, dell'ingegneria che non posso fingere. Vi lascio qualcosa tra le fonti però, se foste curiosi. Per ora, questo è tutto. Bracci robotici foracranio, maiali connessi al computer wireless, elettrodi, un portavoce ricco, famoso, carismatico e vagamente incline al carattere di un super cattivo di James Bond e una promessa fantascientifica. Riuscirà Elon Musk a entrare nelle nostre menti e portarli al prossimo livello di evoluzione? Fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate. Io sono Alessandro De Concini e questo è ADC Div, la mia rubrica mensile di divulgazione scientifica. Vi parlo tutti i giorni di cultura, apprendimento, cognizione e metodo di studio sulla mia pagina Facebook, Alessandro De Concini ADC, sui miei canali social, YouTube, Instagram, blog, dappertutto. Noi ci vediamo domani per un prossimo video e nel frattempo attenti a non farvi forare il cranio. Noi ci vediamo domani per la mia pagina. Saudiamo domani! A aumentare il seminario di culturaовой hews da S